e signore e signori ben ritrovati nella serie della red craft come vedete qui c'è un altro palazzo come avete visto dal timelapse è praticamente uguale a quest'altro semplicemente cambiano i blocchi e cambia anche l'altezza c'è un piano in più lì è proprio palese che è stato tra virgolette incollato un piano in più cioè perché comunque l'abbiamo sistemato prima in un mondo in creativa abbiamo cambiato i blocchi e poi l'abbiamo messo così quindi è un palazzo arancione come vedete c'è ha praticamente la facciata arancione tra l'altro qui c'è pure un tubo di scarico questa è un'idea di un iscritto stesso in live mi ha detto prova a mettere un tubo di scarico ma come lo facciamo cioè non ci sono i blocchi per farlo però effettivamente con le lighting road si può simulare una cosa del genere anche se purtroppo è un tubo arancione però va bene così cioè nel senso che comunque l'intera build è arancione quindi ci sta pure che il tubo è arancione come se i tizi che pittavano sto coso sono andati pure a pittare i tubi ho dimenticato di mettere l'insegna ma va bene così cioè nel senso che la metto a fare ci sono altri negozi qui che non vendono praticamente niente cioè noi stiamo buildando qui per il gusto di farlo è la zona shop sì ma di shop cosa c'è sto solo io stamino e altre persone che comunque non sono presentissime ma ci sta e un po' mi dispiace perché è una zona morta quasi sta venendo veramente molto molto bene a proposito fammi vedere un attimino se qui qualche d'uno ha comprato altra roba no qui niente qui vabbè non avevo proprio fillato no vabbè noi portiamo avanti soprattutto anche il discorso del castello che mi sta piacendo molto anche per il gusto di finirlo ora mi scoccio di prendere il portale voglio spendere i diamanti tanto comunque stiamo finendo sotto un ponte come come costui voglio farvi vedere una cosa molto molto bella è una cosa che ho scoperto stesso buildando stesso facendo gli interni di questo castello is da un po di tempo ha aggiornato l'armor stand plus non so se lo conoscete sarebbe un editor degli armor stand che praticamente tu puoi farci tantissime cose piazzi l'armor stand lo modifichi fai in modo che sia invisibile fai in modo che non soffre della forza di gravità cioè insomma veramente molto molto simpatico e anche intuitivo come l'ha fatto perché praticamente devi usare una zappa gli dai una botta vedi e diventa modificabile cioè in questo caso possiamo modificarlo come ci pare e piace è luminescente e possiamo farci quello che vogliamo una cosa fighissima di questo armor stand è che se fai tasto destro con qualsiasi blocco automaticamente lo riceve in testa si possono fare una marea di cose fighissime come per esempio lo prendi vedi per esempio col tasto destro tenendo premuto shift lo posso prendere gli posso assegnare la possibilità di diventare un blocco estetico ovviamente non lo poggio adesso perché altrimenti cade vedi non ha la piuma se gli do la piuma piuma che non so se ho in questo momento sì ce l'ho vabbè ve lo faccio vedere a questo punto shift tasto destro vedi io posso alzarlo e resta volante poi lo voglio rendere invisibile prendo la phantom membrane gliela do sempre con shift e tasto destro e diventa invisibile io posso sempre spostarlo dove mi pare e piace per esempio ecco vedi lo voglio far diventare appunto come dicevo un blocco estetico gli do la botta e boom ecco fatto bravo bis veramente un bel lavoro detto questo andiamo all'argomento stanza del menu come vedete questo è il lettone il lettone che ancora non mi convince tantissimo però per ora va bene così a proposito posso pure dormire adesso è notte ne approfitto se faccio tasto destro vedete qui c'è un letto nascosto tra l'altro si nasconde però c'è si mette proprio sotto le coperte bellissimo posso anche dormire in questo fantastico lettore gigante rosso qui ho messo delle aperture che ci portano verso il balcone enorme c'è questa balconata che comunque deve essere un pochino sistemata si devo un attimo capire come fare perché non posso lasciare aperto per il momento sto posto non avrebbe senso deve avere comunque una porta parlando di porte qui c'è finalmente questa porta che ci conduce verso i piani alti diciamo vedete io posso arrivare qui sono l'unico che da questo punto può accedere a questi piani superiori fatto il lettone abbiamo fatto anche il bagno il bagno che è diviso ecco qui ritorniamo sempre al discorso degli armor stand divisibili da questi panni appesi guardate che bello questa cosa non si può fare minimamente in minecraft piazzando col tasto destro sta roba ma con l'armor stand plus vedi adesso vi faccio pure vedere che questi sono tutti armor stand invisibili possiamo fare una roba del genere certo l'unica cosa negativa è che ha queste asticelle dietro ma sti cavoli c'è sti cavoli veramente sti cavoli ed è bellissimo perché adesso c'è un po di tra virgolette privacy possiamo raggiungere questo nostro bagno enorme dove c'è praticamente qui una sorta di latrina con questo buco fatto sempre con l'armor stand vedi è fighissima sta cosa veramente puoi fare una marea di cose qui c'è un cammino molto carino che ci discalda mentre ci laviamo qui dentro ecco qui posso anche sedere guardate che figata e poi sempre parlando di armor stand abbiamo messo una sorta di specchio ovviamente le potenzialità che abbiamo adesso sono pazzesche ovviamente dobbiamo stare attenti perché gli armor stand fanno laggare di cui stavamo portando avanti anche quest'altra stanza abbiamo fatto una roba speculare e poi ci devo mettere il tetto qui penso che ci metterò non lo so un tavolo un qualcosa giusto per fare una stanza di passaggio di relax quindi ci voglio mettere comunque dei divanetti qualcosina non lo so non lo so magari delle librerie se riesco ad inserirle e niente penso di avervi fatto vedere anche tutto per quanto riguarda questo progetto che stiamo portando avanti continuerei con sempre il discorso qui di questa stanza la porterei avanti ci vediamo diciamo a robetta finita qua dai ok sì sì decisamente meglio sì perché vedete qua non ci sono vetrate c'è direttamente sta roba che non ci azzecca praticamente niente c'è fa freddo quindi o ci mettevo praticamente delle trapdoor dietro o andavo a chiudere con questo vetro che stiamo utilizzando da sempre in questo castello è proprio il vetro che ha caratterizzato questo castello sì ci sta questa è la stanza signori come vedete secondo me va più che bene così anzi è pure troppo probabilmente ora mettiamo una luce qui con una player head di questo tipo ecco qua completamente a caso giusto per mettere ho messo il soffitto così tutto bello di legno che richiama un po di situazione rustica con anche questa robetta qua che effettivamente è molto poderla non ci azzecca tantissimo sta cosa però non lo so era giusto per riempire un pochino anche questi spazi qui poi non lo so se cambio idea al massimo ci metto dei lampadari però dato che è pari almeno questa sopra il tavolo e ho dovuto trovare questa soluzione così però ci sta come vedete anche un bel tappeto al centro è molto calda questa stanza ho messo dei piatti come vedete che sono delle pressure plate sono già schiacciate infatti questa cosa non puoi fare con il piccone speciale schiacci rompi e poi lo ripiazzi tranquillamente e ti ritrovi una cosa del genere ci puoi camminare su e non succede niente qui c'è un qualcosa per richiamare non lo so l'alcol il vino infatti qui come vedete ci sono i barrels che richiamano un pochino i varili che ne so del vino che dici che si siedono qui magari accogliendoli sai con un po di vino un po di roba li fai sedere ho messo delle piante che forse sono troppe probabilmente devo eliminare non lo so forse questa eliminerei ma una cosa che mi piace tantissimo è questo dettaglio qui perché giustamente bisogna alimentare no il fuoco all'interno del camino qui ci sta tantissimo ci sta veramente un botto tu che hai da guardare zio cosa vuoi ora non ci resta che fare praticamente quest'altra stanza che come vedete è completamente vuota ma forse un'idea ce l'ho chiuderei tutte ste mura con un altro muro magari più legnoso e ci metterei un sacco di letti per i pillagers non lo so potrebbe essere una cosa giusta per far dormire anche i pillagers potrebbe starci qui ho lasciato aperto perché possiamo tranquillamente sfruttare anche questo spazio però non è necessario qui anche chiuderei a questo punto sì decisamente grazie a tutti ebbene sì questo è quello che devo fare tra un episodio e l'altro tra una live e l'altra ora fammi entrare di qua fammi non ci credo ragazzi non ci credo non ci credo vi giuro ecco lasciamole così svolazzanti e lasciamole despaunare con tutta la calma del mondo oltre ovviamente la montagna ci siamo portati avanti per quanto riguarda un luogo diciamo un interno che avevo proprio rimosso cioè avevo ero convinto di aver quasi finito effettivamente questo castello in realtà mancava una cosa da fare anzi uno spazio effettivamente da cominciare a riempire perché cavolo era pure bello spazioso non andava assolutissimamente lasciato così e infatti lì dentro c'è qualcosa ebbene sì questo è un interno nuovo che dovrò fare probabilmente speculare da quest'altro lato ricordate no qualche episodio fa che vi avevo spiegato il discorso perché qui c'è un blocco qui non ci deve essere un blocco sbaglio ci devono essere questi vabbè vedete se ce li ho qui fixiamo subito aspetta ecco così è così perfetto ora qui credo non ci sia nessuno qui fuori quindi possiamo aprire qua sì se vedete che ci sono queste travi così è perché se arrivano i pillager ho paura di farli praticamente cadere nel vuoto perché ci sono sempre spazi vuoti che lascio con il vuoto più totale sotto perché c'è sapete bene che vedi quando scendi qua sotto cadi praticamente nel vuoto più totale comunque queste stanze ricordate che le dovevamo fare no qualche episodio fa ne avevamo già parlato avevamo fatto questo corridoio avevamo detto sì però ci deve essere qualcosa in queste stanze qui innanzitutto prima di entrare qui come vedete il corridoio è stato allargato adesso è molto più grande è stato abbassato per forza perché altrimenti quasi andava un attimino a toccare la porta ed era fastidioso proprio da vedere quello scalino in più però ci sta bene cioè è accettabile al massimo ecco mettiamo le slab qui davanti inizialmente volevo fare un corridoio lunghissimo che prendesse proprio tutta l'altezza di questo posto poi mi sono detto è ma come fai non è perinte facile anche perché tutte queste finestre sono quasi attaccate tra di loro quindi devo cercare di sfruttare gli spazi al meglio senza andare a chiudere queste perché altrimenti si vede da fuori cioè si vede che c'è il muro ed è bruttissimo quindi che cosa è uscito fuori ho fatto questa specie di corridoio chiuso dove ad una certa a cui c'è una sorta di stanzetta che precede altre due stanze adesso per il momento vuote però per esempio queste potrebbero essere delle stanze dedicate a degli ospiti o non so chi anche se sono un pochino piccoline ma non fa niente sti cavoli dato che qua sopra vedete ci sono degli spazi tra l'altro lì mi sono dimenticato di chiudere quella parte lì anzi la chiudiamo insieme a questo punto fa vedere se c'è blocchi per raggiungere queste parti qua su giustamente come come fai quindi che cosa ho pensato di fare praticamente qui vedete c'è una salita che ho sfruttato grazie al fatto che questa effettivamente è una torre ragazzi quindi noi possiamo effettivamente salire pure fino in cima e queste torri qui sono ottime per essere sfruttate anche per i piani superiori perché vi ricordo che qui c'è altro spazio c'è altra roba quindi io salgo fino a qua su mi posso fare il giro qui intorno cioè solo a scopo estetico niente di che ragazzi purtroppo non ho potuto mettere i dettagli dorati perché a livello di altezze siamo un pochino ridotti è difficile andare a mettere questi dettagli anche perché non so se notate le differenze ma queste colonne sono leggermente più basse quindi ho dovuto semplificare il tutto ma c'è un dettaglio qui che adoro tantissimo e questa cosa la puoi fare solamente con il piccone speciale qui c'è una leva che mantiene la lampada guardate che figata ecco praticamente qui viene in aiuto il piccone speciale cioè per esempio ecco adesso riprendo la lanterna come vedete io la piazzo così per terra no e non c'è il filo sopra ecco per fare questa cosa basta attaccare praticamente sotto una superficie dove va a creare questo rompetto prendi il piccone speciale rompi e ti dà praticamente la lampada che ha la hanging true semplicemente piazzo dei blocchi qui d'appoggio e vado a piazzare la lampada come vedete si va ad attaccare ora qualcuno starà pensando sì ma adesso che vai a rompere questo blocco si aggiorna tutto e salta la lampada e invece no non si aggiorna e va bene così va bene così devo ancora decidere però come gestire queste stanze perché per ora sono un pochino stesse magari nei commenti ditemi un pochino se vi piace l'idea o se devo fare qualche modifica magari ecco stupido che sono posso creare due stanze una qui e una qui con un muro al centro che le divide ecco vedi detto questo vi voglio far vedere un'ultimissima cosa che è anche dedicata ai sub cioè a chi magari utilizza anche le schematiche e tematiche e quant'altro su discord troverete un file molto molto carino anzi ve lo faccio vedere adesso perché ce l'ho salvato come vedete qui c'è un quadro ebbene sì anche la cornice dorata questo qui è un file che regalo tranquillamente ai sub di twitch che mi supportano e sono praticamente due mappe che vanno a creare un quadro due per uno si dice così o uno per due vabbè comunque ci siamo capiti c'è un sito che ti permette di fare questa cosa se entro nella red craft test questo è il quadro e questo è il casino che bisogna fare per crearlo ebbene sì mamma mia che macello guardate che roba mio dio ragazzi il prossimo che voglio fare deve essere un 3x3 ma viene gigantesco e ci vuole una vita per farlo però vedete questo è il nostro castello guardate quanto è figo mi piace un sacco pure l'ombra che è azzurra non chiedetevi perché a molti non piace questa cosa ma a me piace un casino adoro veramente questo dettaglio detto questo signori io spero che questo episodio vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di quelle stanze fatemi sapere che tipo di quadri possiamo fare ancora per esempio possiamo andare a fare una foto al castello della red 2 fighissimo come ricordo bellissimo magari un 3x3 lo facciamo proprio di quello signori è stato un piacere seguitemi sul telegram seguitemi su instagram attivate la campanellina di youtube e seguitemi anche appunto su twitch alla prossima ragazzi ciao a tutti